due amici parlano non so più come fare per parlare con una ragazza mi avvicino mi presento ma neanche mi rispondono e vanno via guarda ti dico io come devi fare ti devi avvicinare alla ragazza le inizia a parlare da dire che è carina i suoi occhi ti hanno attirato da lei che il suo cuore lo senti battere vedrai che alla fine ti risponde va bene si vedono il giorno dopo sai avevi ragione finalmente mi hanno risposto mi sono avvicinato ad una ragazza che era seduta su una panchina e le ho detto ciao posso sedermi il tuo sguardo mi ha guidato fino a te i tuoi occhi scintillanti sono stati un faro la tua voce una musica ed il tuo cuore ha un battito unico e dalla fine mi ha parlato e che ti ha detto sorry i speak english scintillanti sono stati un'attività scintillanti sono stati un po' e Grazie a tutti